Cosa dico lui? Ma che sta dito? E che c'è lui? Ma lui, no? Lo so che è tuo! Ma oggi o domani? Io oggi. Posso dire una cosa? Mi chiama, questa missione mi chiama e fa Stefano. Il 14 è il mio compleanno. Voglio fare una cosa al contrario. Gli regalo lo spazio a Mattia. Ma te ne ti conto chi è questo? Mi chiama e mi fa il 14 Ma che stai scherzando? Ma che stai scherzando? Ma che stai scherzando? Il 14 è il mio compleanno, voglio fare la cosa al contrario. Io regalo lo spazio a Mattia. Stai scherzando? Tu sei il numero uno, tu sei il numero uno. E allora perché dici, dobbiamo fare la gara? Io, Giorgio, Valerio. Ma il quarto di chi è? Io, te, Mattia e Giorgio. E' tuo! Te l'hai regalato! Te l'hai regalato! Ma Valerio Montanto è il numero uno, ragazzi. Ma questo è il numero uno. Sì, che il nome mio può essere pure. Ma guarda che ho messo tre quattro e 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 quattro. Gli regalo lo spazio al mastro. No. E io ho detto tu sei il numero uno. Però posso dire una cosa? Con un po' di ostentazione così. Tutto questo è figlio del secondo testomale. Perché io lui devo conosco il secondo testomale. Esatto. E io ho lo spazio. E lui ha sempre avuto la passione dello spazio. E Giorgio, che lavora da noi, che viene dal secondo testomale, ha lo spazio. Pieno di spazi. E lui ti ha regalato lo spazio. Perché c'è il senso d'appartenenza, è la moto ufficiale del secondo testomale. Si chiama il concetto di assertivismo. Quando tu fai qualcosa che gli altri apprezzano, fanno loro senza che tu gliel'abbia imposta. Il 20 aprile è il mio. Il 20 aprile. C'è qualche mese da ticcio. Lui sei il numero uno. Come tu hai detto ieri. E a prima di 13 si chiama. E a prima di 13 si chiama. Tu pensavi a una sorta. Perché sei una brutta persona. Invece una moto. E allora. Spazio. 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 Spazio alla quarta. Non è spazio 900. Sono belle cose. Sono cose uniche. Non hanno. Siamo gente dei valori. Valerio Portarto è inutile che lo gratificiamo. Consigna delle chiavi. Siamo amici. Siamo soci. Siamo croci. Spazio. A breve. Grande Valerio. Grande Valerio. A breve. Il primo. Gran premio. Spazio Mastro Lorenzi Edition. E via. Montalto sponsor. Dai i prezzi. Pure sponsor. Grande Valerio. È il numero uno. Il长no legale. A tutti. Tu te stesso. Un numero uno.